salve a tutti amici benvenuti ancora una volta in casa di Dario oggi facciamo una calamarata di pasta con questi ingredienti 250 grammi di pasta tipo calamarata pasta fresca una scatoletta di tonno da 160 grammi una patata da 100 grammi tagliata finemente un limone bio e utilizzato il succo emulsionato con un paio di cucchiai di olio extra e la scorza un cucchiaio di capperi circa 10 grammi tagliati a coltello due spicchi di aglio rosso in camicia 10 foglioline di menta tritate del prezzemolo mezzo litro d'acqua circa sale pepe olio e il nostro magic cooker procediamo mettiamo i due spicchi di aglio rosso nella padella un pochino di capperi una metà della scorza del limone la patata tagliata finemente e naturalmente dell'olio extra al solito già un goccino d'acqua per l'umidità copriamo con magic cooker facciamo scaldare per due minuti allora qui avevo detto il succo del limone emulsionato con due cucchiai di olio extra che andiamo a mettere qui nel tonno ci aggiungiamo la menta del prezzemolo tritato una presa di sale pepe e i capperi la scorza del limone e quindi mischiamo il tutto e lo teniamo qui da parte primi due minuti passati abbasso un attimo la fiamma scopro ed aggiungo l'acqua un pochino la tengo da parte rialzo la fiamma aggiungo un po' di sale pepe un po' di menta quindi ricopro con magic cooker alzo la fiamma al massimo e lascio scaldare ulteriormente per due minuti così che la patata intanto si cominci a cuocere ulteriori due minuti passati scopriamo a questo punto eliminiamo l'aglio e non ci resta che aggiungere la calamarata di pasta ancora un po' di sale una presa e una piccola parte del tonno qui giriamo per bene ancora un po' di prezzemolo ricopriamo col nostro magic cooker facciamo partire adesso 4 minuti di tempo primo minuto fiamma molto alta e i successivi 3 minuti mettiamo a fiamma media ecco qua 4 minuti passati controlliamo giriamo per bene aggiustiamo un pochino di sale andiamo a inserire il resto del composto un pochino teniamolo da parte giriamo ancora copriamo con il nostro magic cooker e ultimiamo la cottura per l'ultimo minuto benissimo siamo quasi pronti allora andiamo a controllare giriamo si sta formando una certa cremosità con la patata che si è squagliata a questo punto mettiamo il resto del tonno spegniamo la fiamma diamo una girata quindi ricopriamo col nostro magic cooker ci spostiamo dalla fiamma e lasciamo riposare il tutto come al solito per un minuto allora minuto passato scopriamo giriamo per bene ancora e siamo pronti ad andare nel piatto un po' di guarnizione ancora un po' di prezzemolino un pochino di menta del pepe e un giro d'olio a crudo ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi di questa calamarata di pasta con tonno menta e limone preparata sempre in poco tempo con il metodo di cottura magic cooker grazie a tutti e a tutte per avermi seguito ci vediamo alla prossima ricetta non mancate ciao